Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli involtini di peperoni ripieni. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono peperone rosso, peperone giallo, patate lesse, tonno, burro morbido, parmigiano grattugiato, prezzemolo tritato, origano, olio evo, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo cotto i peperoni, abbiamo tolto la pelle e li abbiamo tagliati a striscioline. Adesso prepareremo il ripieno. Mettere nel boccale le patate, il burro, il tonno sotto olio sgocciolato, il parmigiano, il prezzemolo, l'origano, il pepe e il sale. Ed azionare il bimbi per 3 minuti a velocità a 4. Trasferire il composto in una ciotola. Prendere una striscia di peperone, mettere un cucchiaino di composto. Arrotolare formando un involtino e posizionare in una teglia unta con olio. Proseguire così per il resto dei peperoni. Spolverizzare con l'origano. Irrorare con un filo d'olio. E riporre in frigo per 30 minuti prima di servire. Involtini di peperoni ripieni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!